Musica 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 Dopo le hawaiame ci sono le bahamas Musica Andiamo a comprare un po' di frutta Dove? Musica 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 Oggi arancia Un bel chilo di arancia 40 rupia Tempo Prezzo più onesto in miglia per lei Musica Musica Il primo e il dopo Musica Oh la frutta nonostante sia sparsa in giro per la strada è tenuta veramente bene Bellissima Musica 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 Cor paste Curenda merchants Purna No El gruppo Sono piùитemi Il più è di questo Posso provare un po'al wise? Si Non troppo non troppo be PHP Oggi Bacche Giretto al mercato finito adesso, noi andiamo? Andiamo a mangiare Allora, un po' doiati, abbiamo preso la merda, abbiamo fatto due fermate, siamo scesi qua Anche il centro commerciale di questa privata, non ho idea di dove siamo, siamo andati un po' pure sinceramente, però è bellino qua Praticamente siamo nel viale Ceccarini dell'India, di Nuova Delia, uguale Siccome Nuova Delia è sul mare, qua hanno i materassini da mare giustamente A Nuova Delia Allora, l'iPhone 5S, 32 di giga di memoria, costava 8.500 rupie sui 100 euro, 100 e passa euro, 5S Abbiamo trovato il suo vestito per il suo matrimonio, non per il mio, eh Tra 20 anni vengo qua